Da dove nasce l'esigenza di avere un sito dedicato alla Cattedrale di N.S.S. dell'Orto? Nasce dal fatto che un sito è uno strumento sicuramente molto utile per far conoscere una realtà come la Cattedrale, che di natura sua è una realtà della Diocesi, perché la nostra Cattedrale è cattedrale, quindi la Chiesa del Vescovo è il cuore della nostra Diocesi e anche un santuario, il santuario di N.S.S. dell'Orto, amato dai Chiavaresi, ma non solo dai Chiavaresi, con il territorio, le persone, coloro che in qualche modo vivono un rapporto, una relazione, un incontro con questo luogo di preghiera e di memoria della nostra storia. Quante sono state, quali sono state le principali opere multimediali volte a far conoscere a medio la Cattedrale di Chiavari? La prima opera, direi forse la più importante, è quella dei Palmari, dei Palmari che consentono una visita virtuale al museo. Poi ai Palmari sono seguiti le opere virtuali di inserimento nei cellulari di nuova generazione delle opere date che ci sono nella corridoio della Cattedrale, compresi i quadri, gli ex voto e gli argenti. Dopodiché a questa iniziativa poi è seguito il sito. Quali sono i gioielli della Cattedrale che si possono scoprire anche attraverso il nuovo sito internet? Ma i gioielli sono molti, intanto l'edificio in sé e poi l'arredo, l'arredo che comporta anche la presenza di notevoli artisti, ecco che sia per quanto riguarda l'arte statuaria, il maragliano, l'arte pittorica e quant'altri, l'impianto stesso, il Pogliaghi che ha arredato l'impianto, l'insieme delle navate.